Te lo giuro su Dio, Gerry! Se non scendi dalla macchina, rompo il vetro e ti tiro fuori dal finestrino! No! Scusi, signora, questa zona è riservata alle ambulanze, alle vetture dei medici e a quelle dei pazienti. Se quell'idiota di mio marito uscisse dalla macchina, vedrebbe che è un paziente. Gerry, apri la portiera! Portami a casa, Tess! È stato un grosso errore! Signore, se ha qualcosa che non va, dovrebbe farsi visitare. Potremmo aiutarla. Davvero? Davvero potete aiutarmi? Sì, sì, possiamo. Ma non possiamo fare niente se non esce dall'auto. Dovete aprirmi voi la portiera. Va bene, mi serve una sedia a rotelle. Ok. Oddio mio! Mi scusi! Persone fantastiche, vero? Dei veri tesori. Sono così, così dispiace. Ti scuserai con quell'uomo. Profondamente. E gli starai accanto tutto il giorno. Sì. Anche durante il pranzo. Non credo che avrò voglia di pranzare. Sì, sì, lo farò. Bene. Chiama il dottor Sloan. Dovete. Sì, sì, sì. Sì, sì. Su, sì.